Mi dicono, a proposito anche gli animali, che durante questa settimana, durante la settimana c'è stata una registrazione del famosissimo programma Gheo in Gheo e pare che la conduttrice Sveva Sagramola abbia perso completamente la pazienza e si è esplosa di rabbia in studio. Voi come sapete noi abbiamo delle telecamere lì dentro, abbiamo delle immagini in esclusiva, possiamo andare a vedere che cosa è veramente successo a Gheo in Gheo. Benvenuti a Gheo in Gheo, siamo in onda da almeno 60 anni ancora, mi chiedete se si dice Gheo o Gheo. Siamo un programma che ha così tanto successo che non me ne frega nulla di come l'agente lo pronuncia. Oghi, siamo qui per parlare di Germania, questo paese che da sempre... Eh? De Svizzera? La Svizzera è famosa per le mucche, per il formaggio coi buchi, per il cioccolato, per il nero... Mi è stata a c***a. Ah, il cioccolato e il nero e lo... Mi stavano a c***a. Come si chiami? Gheorg. Gheorg o Gheorg, Gheo o Gheo, non mi fa confusione perché oggi non è giornata, te lo dico, eh? Bene, Steva, queste sono le... Sono i formaggi della Svizzera. Tu, Porello, sei anche caruccio, ma ma te spiego io chi è la Svizzera. La Svizzera è una zanzara, per la precisione, è quella razza di zanzara di m***a, che tutte le sere puntuale, puntuale, aiutami a di puntuale, puntuale, sentrufola in camera mia per rompermi i c***i. Erechia, e mettetemi un'immagine di una zanzara Svizzera qua dietro. Eccola qua, eccola qua. Appena spengo la luce, sta a str***a entra in camera mia e mi gira intorno alle orecchie, così. Maledetta infame! Adesso spegniamo le luci. Mh? Quanto c'è scommetti che appena facciamo è buio, arriva puntualissima sta zanzara Svizzera de m***a. Qualcuno ha la racchetta quella elettrica che gli diamo nascosta a sta str***a. Ma dovete nascondi, lasciami sta, lasciami sta che c'è il distanziamento. Io lo so, lo so che ci sei, fatti sotto infame de m***a. No stai, no stai, no stai!